sia lodato gesù cristo prima di iniziare il video ricordo che ho preparato quest'area troverai qui sotto in descrizione il link dove poter accedere a tutti i miei libri visto che ci troviamo nella fine dei tempi ho preparato questi questi libri forse non ce ne saranno altri con le informazioni più importanti che ci servono per la salvezza e per essere poi strumenti di dio nei momenti difficili che stanno per arrivare quindi ti ricordo che qui sotto troverai il link per accedere a questi libri e quello più importante ovviamente questo qui ci clicchiamo e il manuale di sopravvivenza della fine dei tempi un abbraccio dio ti benedica e se ti va lascia un commento e un like al video sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria benvenuti fratelli e sorelle sul sito ufficiale di dolce de maria leggiamo ispirati dello spirito santo il messaggio di san michael arcangelo all'oste maria del 17 aprile 2024 come sempre alla fine del messaggio faremo una personale riflessione illuminati dallo spirito santo e poi successivamente se sarà necessario usciranno altri video di approfondimento dello stesso messaggio amati figli del nostro re signore gesù cristo io vengo a voi con la mia parola per comunicarvi la volontà di dio voi siete amati dalla trinità e venite aiutati dalla nostra regina e madre come principe delle legioni celesti devo dirvi che vi trovate molto vicini all'avvertimento ciascuno di voi vedrà nella propria coscienza anche il più piccolo dei vostri errori dei vostri peccati delle umiliazioni che avete inflitto ad altri fratelli del vostro disprezzo per i fratelli attraverso l'orgoglio e la superbia in ogni loro forma vedrete i vostri interessi egoistici i vostri capricci le vostre infedeltà le menzogne i rifiuti le mancanze d'amore nei confronti del prossimo l'aver augurato il male al prossimo le mancanze di carità vedrete in quante occasioni avete disprezzato dio o avete smesso di amarlo sentirete il dolore di negare la trinità sacrosanta soprattutto quello che più vedrete sarà la mancanza d'amore per dio e per il prossimo coloro che sono amore possegono un tesoro dal quale scaturisce ogni ogni gemma la carità il perdono la saggezza della comprensione e la ricchezza della speranza l'amore rende possibile tutto ottiene tutto conosce a fondo la legge di dio ed entra nella relazione con ciò che è buono voi avete dimenticato l'avvertimento e non dovreste farlo tenete presente che durante l'avvertimento vivrete il dolore di ogni atto contrario alla divina volontà il dolore sarà spirituale ma in alcuni momenti sentirete il dolore unirsi alla carne diventando quasi fisico in alto ci sarà la luce e quindi l'oscurità dell'anima e coloro che avranno confessato i loro peccati e si saranno pentiti di cuore che avranno fatto proposito di ammenda e non saranno tornati a commettere il medesimo peccato sentiranno in misura minore il dolore delle azioni in debite commesse l'umanità si troverà a soffrire a causa delle cattive decisioni prese dovute particolarmente alla testardaggine e alla disobbedienza pigli del nostro re signore gesù cristo vi trovate sotto la costante minaccia della guerra soffrendo a causa degli attacchi incontrollati di alcune nazioni contro altre nazioni la guerra non deve essere un'opzione è solo una follia a causa della quale muoiono molti bambini innocenti la guerra sta prendendo corpo e coinvolgerà altre nazioni pertanto verranno coinvolti coloro che non vorrebbero esserlo e il caos aumenterà mantenetevi attenti spiritualmente non permettete che il male vi domini voi siete in grado di distinguere tra il bene e il male vedrete cadere i vostri fratelli dal nord al sud e dall'est all'ovest e gemerete con grande dolore soffrendo in un modo che questa generazione non ha mai sperimentato prima d'ora le mani dell'uomo sono meravigliose nel creare e purtroppo lo sono anche nel creare la distruzione amati figli del nostro re signore gesù cristo le acque sulle coste si muoveranno e in questo modo purificheranno le pietà umana le maraviglie della mano del potente di dio padre si palesseranno nei momenti più difficili per gli uomini dio non permetterà che l'uomo distrugga la sua creazione durante la guerra avverranno grandi miracoli miracoli meravigliosi nelle persone dalla fede salda andate avanti senza paura l'amore divino è infinito e voi non sarete soli le mie legioni celesti vi difenderanno e vi nasconderanno se necessario ma voi preparatevi rimanete nell'amore così che i cuori di carne siano preservati fino alla nuova alba di pace tra gli uomini figli del nostro re signore gesù cristo senza timori senza paure senza ansietà mantenendo la speranza andate avanti senza esitare perché i figli di dio sapranno discernere in libertà tutto quello che mondano e peccaminoso pregate figli del nostro re signore gesù cristo pregate per la sofferenza pregate mi sono fermato perché qui ogni volta passano moto con rumori assurdi pregate figli del nostro re signore gesù cristo pregate per la sofferenza che l'eruzione dei vulcani causerà su tutta la terra pregate la terra tremerà ci saranno forti terremoti in vari luoghi pregate la guerra continuerà e aumenterà di intensità pregate per voi stessi vi benedico con la mia spada la stessa con la quale vi difendo da michele arcangelo ave maria purissima concepita senza peccato ave maria purissima concepita senza peccato ave maria purissima concepita senza peccato commento di luz de maria fratelli in questo momento san michele arcangelo ci parla del pericolo in cui ci troviamo in quanto umanità sull'orlo della guerra noi dovremmo vivere questo calice amaro della terza guerra mondiale con continuo timore per la sopravvivenza ma dio è grande e non abbandonerà mai il suo popolo e dobbiamo utilizzare la fede per ignorare le parole del mare che vorrebbe che gli uomini fossero pieni di paura di fronte a quello che sta succedendo e a quello che succederà fratelli dio è il padrone di tutto ma noi dobbiamo cercare di crescere spiritualmente perché nei momenti decisivi dovremo concentrarci sulla salvezza dell'anima tralasciando le cose materiali la madonna ci proteggerà e farà le sue apparizioni pubblicamente alimentando la nostra fede affinché nei suoi figli andiamo avanti senza lasciarvi lasciarci vincere fratelli dobbiamo essere persone del bene e dobbiamo ricordarci che la divina misericordia è sempre a nostra disposizione che dobbiamo approfittarne per salvarci l'anima amen sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria per mezzo del nostro amato san michele arcangelo allora vorrei anche metterci la faccia anche se sono spettinato nelle apparizioni spagnole di el scorial che sono messaggi sono apparizioni del 1900 nel 2000 o giù di lì la santissima vergine maria ci parla dell'avvertimento avvertimento questo infinito atto di misericordia di cui sentiamo parlare da parte di tantissimi mistici io in descrizione come sempre vi lascio il libro che ho creato sull'avvertimento è un libro con informazioni di dominio pubblico infatti come vedete dietro non c'è nulla ho voluto raccogliere in questo libro un insieme di rivelazioni messaggi spiegazioni che riguardano l'avvertimento e lo troverete in descrizione insieme a tutti gli altri libri e quindi dicevo nelle apparizioni di el scorial la vergine maria ci parla di come noi vedremo come in un film tutte le nostre azioni nel bene del male infatti il nostro angelo custode che è sempre vicino a noi e ci monitora ci guarda il nostro angelo custode è come se fosse una telecamera puntata su di noi e questa telecamera registra tutte le nostre parole tutte le nostre azioni nel bene del male poi un attimo prima dell'avvertimento il nostro angelo custode va in paradiso si siede davanti il suo computer monta il video della nostra vita prende il dischetto va dal padre gli dice ecco questo è il dischetto di walter l'ho preparato con cura mostra di tutte queste azioni nel bene e salvano così accadrà per tutti voi per tutti noi i nostri angeli custodi registreranno le nostre vite stanno già registrando le nostre vite poi ne presenteranno davanti il padre celeste nel terzo segreto di fatima c'è una frase che inizia così e vedemmo una luce che dio e poi le persone come se si vedessero in uno specchio nel cielo apparirà durante l'avvertimento una croce di luce che durerà sette giorni e sette notti questa croce sarà luminosa questa croce sarà formata dagli angeli della santissima trinità della gloria di nostro signore gesù cristo questi angeli si uniranno tutti insieme per formare questa croce di luce che sarà vista in tutto il mondo sarà brillantissima di giorno e ancora più brillante di notte e questa luce che dio cioè questa croce formata dagli angeli colpirà il mondo e noi vivremo questo questo atto della infinita misericordia di dio nell'avvertimento universale dove vedremo tutti i nostri peccati con gli occhi di dio anche tutte le buone opere che abbiamo fatto per la sua gloria ovviamente non dobbiamo aspettarci la conversione del mondo da questo atto perché poco dopo poco dopo tempo apparirà l'anticristo anticristo conosce tutti i nostri canali conosce le apparizioni della madonna conosce l'avvertimento e quindi una parte del mondo parliamo del 90 per cento non crederà all'avvertimento la parte restante il 10 per cento si convertirà ma un 10 per cento in confronto all'avvertimento vuol dire che nove parti su dieci del mondo moriranno durante la guerra durante il dominio dell'anticristo durante la giustizia divina perché dio deve ripulire il mondo dalle radizioni nucleari della guerra dalla plastica dei mari e dal peccato e quindi quel 10 per cento di popolazione che alla fine resterà nei prossimi 6 bar 9 anni sarà quel popolo che dio avrà scelto per popolare il nuovo mondo ma questo nuovo mondo sarà preceduto dalla seconda venuta di gesù che verrà per giudicare i vivi e morti e il suo regno non avrà fine san migrò arcangelo ci amonisce e c in questo messaggio ci amonisce dicendo che ci siamo dimenticati dell'avvertimento come ci dimenticheremo presto delle rivelazioni mariane delle profezie tutto perché non ci siamo messi nella disposizione di stampare i libri di acquistare i libri che mancano quelli della divina volontà rivelata luisa picareta quelli di maria valtorta tutti i messaggi di rossi di maria e di meggiogori di giacarei e quindi non dobbiamo farci prendere dal panico davanti le cose brutte che nel mondo accadranno perché la guerra si estenderà diventerà la terza guerra mondiale e le profezie ci parlano che la nord corea attaccherà l'europa con i missili attaccherà l'america con i missili la cina non rimarrà a guardare entrerà in guerra al fianco della russia dei paesi orientali della nord corea per attaccare l'america ed europa e per creare così il nuovo ordine mondiale ma tutto questo tutto questo verrà affermato ovviamente dalla giustizia divina e gli uomini si dovranno rendere conti che dio esiste le prove per tutti noi saranno immense sono già immense perché la guerra è sotto gli occhi di tutti poi si estenderà come già si sta estendendo causa delle minacce e arriverà l'avvertimento arriveranno i segreti di meggiogori e poi dopo l'avvertimento dopo il grande miracolo arriverà l'anticristo con il suo legno porterà porterà innovazioni tecnologiche offrirà la pace il cibo le medicine gli alimenti ai popoli della guerra per poi prendere possesso della chiesa per poi prendere possesso del mondo attraverso il suo marchio infernale ecco noi siamo immersi in tutte queste cose però il popolo di dio non si deve non deve entrare in quel panico dove poi pensa ma dio dove non siamo aiutati il popolo di dio cioè tutti noi io personalmente che ho tantissimi segni da parte delle sante regioni di san michael arcangelo non devo e non mai può mai entrare nella paura ma dove dio ma perché non mi aiuta devo avere fiducia perché le sue sante regioni angeliche mi proteggono il mio angelo custode sta firmando quello che sto dicendo in questo messaggio e quindi la mia fede dovrà essere grande perché gli angeli non solo non ci abbandoneranno ma c'è stato anche promesso che le scorte che noi stiamo facendo oggi verranno poi durante la guerra moltiplicate e quindi le scorte di cibo devono essere uno stile di vita dobbiamo avere sempre gli scaffali bene riforniti perché i prezzi come stiamo vedendo stanno aumentando sempre di più e quindi dobbiamo dobbiamo impegnarci ad avere gli scaffali sempre bene riforniti di alimenti di medicina e dobbiamo condurre uno stile di vita per impedire che il nostro corpo sia male in tutti i sensi eccoci fermiamo per non allungare troppo questa questo messaggio però è chiaro che dovremmo ritornare in un secondo video per parlare e continuare a parlare dell'avvertimento della guerra e delle conseguenze che questa guerra è quello che ci aspetto a livello profetico a livello di profezia avranno la nostra vita e come ci dobbiamo preparare senza avere timore perché le sante regioni angeliche di san michael arcangelo ci proteggono via lodato gesù cristo nel cuore macolato di maria